Per quanto riguarda gli appuntamenti del settembre culturale al castello, Gad Lerner, giornalista conduttore televisivo e saggista italiano, ha incontrato il pubblico con buoni e cattivi quando la politica distribuisce le pagelle. Gad Lerner ha discusso con l'onorevole Alfonso Andrea. Nella politica italiana di recente è in valcia l'abitudine di denunciare il fatto che chi fa del bene in realtà è cattivo, che chi vuole salvare vite umane, chi vuole praticare l'integrazione e l'accoglienza, in realtà è un furbacchione subdolo che lo fa per le sue convenienze. È una semina di veleno, di insinuazioni, di denigrazioni che fa sì che certi politici ritengano di poter dare le pagelle dei buoni e dei cattivi stabilendo che i buoni sono finti, ma io credo che questa sia una brutta malattia della politica.